Io faccio dei programmi nella mia testa che poi vanno miseralmente a quel paese, quindi fa così. Loro in teoria non ci sono, poi ci sono, poi nei video tagliamo la parte, non si parla di loro. The showman! No? No, è fantastica perché io penso che sia grazie a persone come te e come Luca e altri che gli psicologi lavorano di più e che le persone riescono anche ad accedere di più. Sai la statistica che tra il 60 e il 90% delle persone avrebbero bisogno di psicoterapia? Non vanno mai da un professionista della salute mentale, vanno dal parrucchiere o dall'amico o dalla nonna. E quando tu mi hai detto, mi hai raccontato, che poi con l'innocenza con cui mi raccontano, mi hanno chiamato da Skype, boh, vediamo, no? E poi tutto quello che c'è stato dopo, la radio, io non ho il televisore, quindi non lo so, le cose che fai fino a il libro. C'è questo mondo, raccontami un attimo dal punto di vista dello psicologo, Gerry, no? Com'è? Cioè, com'è successo tutto questo? Un po' com'è successo, un po' come te lo vivi tu, immagina, non so come spiegartelo, immagina che tu devi raccontare da Gerry psicologo, quindi a tu che ti immaginavi magari nel tuo studio, a vedere pazienti, vita naturale durante, all'avere una cosa che magari, per te era inaspettata, veramente inaspettata. Ma in realtà non è proprio così, perché io fin da subito avevo questo trip del palcoscenico, ce l'ho sempre avuto. Vabbè, tu suonavi… Proprio perché suonando avevo sviluppato l'interesse nei confronti della performance, in qualche modo. Tu quando io facevo la radio, la radio punk, tu mi mandassi, non so se tu… Il CD. Il CD, già sin da ascoltare. Ne abbiamo parlato, ti ricordi? Sì, sì, è vero, è vero. E quindi comunque sia l'interesse nei confronti di qualcosa che avesse a che fare anche con una performance, c'è sempre stato. Poi ovviamente sui social tutti noi siamo, come dire, sovraesposti e la sovraesposizione che avevo su Facebook mi ha portato a essere chiamato poi dalla produzione del programma che ho fatto e delle altre cose che ho fatto successivamente. E questo per me non è spiacevole e né inaspettato in realtà, perché comunque mi mette alla prova e mi mette davanti ai miei limiti, perché io sono una persona molto timida in realtà e quindi fare tutte queste cose così sovraesposte mi mette veramente davanti a qualcosa che per me è molto difficile. L'ho sempre fatto e questo è un insegnamento, in qualche modo, che potrei forse passare. Ecco, mettervi in difficoltà, quello che dicevo anche nella presentazione del libro, vuol dire questo, vuol dire fare quello che è un po' contro la tua natura. Sfidati un po'. Per me, lo cito anche nel libro, un professore del liceo mi obbligò a fare una parte in uno spettacolo teatrale, per me era un incubo in quel momento fare questa cosa, però a me è servito tantissimo. Io da lì ho capito che potevo farlo, che era possibile anche per me, che mi vergognavo anche di alzare la mano e fare una domanda, era possibile farlo con fatica magari, con molta più fatica che per gli altri che magari avevano già l'istrione dentro di sé. Per me era molto difficile, ma è stato assolutamente formativo e mi diverte mettermi in situazioni sempre più difficili. Tu non hai la dissonanza che hanno molti colleghi quando ti guardano, che dicono, almeno nella loro mente, a volte a me, con male parole anche esplicitamente, e sono colleghi, che dicono, ma cavolo, tu fai lo psicologo, devi vedere i pazienti, non puoi fare lo show X, eccetera. Tu invece, la mia sensazione è proprio una naturalezza, poi perché non dovresti poterlo fare? Metti al servizio delle persone, delle tue competenze in un modo diverso a quello canonico, oltre al modo canonico del vedere i pazienti, no? Molto francamente me ne sono sempre un po' sbattuto di questi discorsi, detta proprio... Quando ho iniziato a usare la pagina Facebook, all'inizio, era veramente tanti anni fa, alcuni nostri colleghi mi scrivevano dicendomi, ah ma perché, ma cosa fai, pubblichi le cose su Facebook, siamo psicologi, non puoi farlo. Addirittura sei mesi dopo tutti avevano la pagina. Certo. E quindi, boh, io non ci vedo niente di male nell'utilizzare tutto quello che abbiamo a disposizione per divulgare il nostro lavoro, quindi non ci vedo nessun tipo di limitazione. Poi, a me da piacere, mi piace, non credo di infrangere nessun aspetto che abbia a che fare con l'etica, o perlomeno con la mia etica, e quindi... La tua formazione, sai, quello che studiamo ci forma, la nostra formazione ci forma. La tua formazione sia come psicologo, sia come terapeuta strategico, che input ti dà, che modi di muoverti ti dà all'interno del mondo, non so come si dice, dello show, della TV, e poi l'altro con la TV perché è anche teatro, radio, eccetera. Diciamo che tutto quello che ho fatto, che ho studiato, mi ha permesso di fare il lavoro di psicoterapeuta e, avendo fatto tante cose molto diverse, questo mi ha permesso ancora una volta di declinare a seconda dei vari contesti nei quali mi sono trovato, quelle che sono le mie competenze. Ovviamente avere a disposizione la brevità come skill è qualcosa di utile in un contesto come quello televisivo dove hai dei tempi molto veloci, devi dare dei concetti semplici, comprensibili, possibilmente anche interessanti. Non è semplice, alcune persone sicuramente criticano questo, dicono ma te vai lì a dire dei concetti psicologici banalizzandoli per certi versi, però questo fa parte un po' del gioco, un po' come se vogliamo fare un parallelismo con la musica, la band che inizia a fare pop e che prima faceva musica alternativa. È una scelta, a un certo punto puoi anche decidere di cercare di raggiungere più persone possibili e in quel caso allora usare un certo tipo di linguaggio che sia più accessibile è la strada che devi seguire in quel momento. Una volta hai fatto venire in mente un'amica che suonava al pianoforte musica classica, non mi ricordo, è decontestualizzata la frase, però disse ecco la vera musica, la vera musica era la musica classica. Che vuol dire la vera musica? Perché il punk non può essere una vera musica, ha delle funzioni diverse, vuoi manifestare qualcosa di diverso. quando sento le critiche, quel programma televisivo, hai banalizzato, perché quello non è il tomo di 400 pa, William James più citato, c'era più volte in queste... È un'altra cosa. È un'altra cosa, ha un'altra funzione, ha un altro scopo. È incredibile che poi queste critiche vengano dai colleghi, però non facciamo polemica, se no facciamo noi il talk show che non mi interessa. I tuoi pazienti arrivano con... Questa è una curiosità mia, con delle aspettative diverse. Ti ho chiesto un po' come la psicologia e la psicoterapia hanno influenzato il tuo lavoro nello show. Il tuo lavoro nello show influenza in qualche modo il tuo lavoro da psicoterapeuta? Cioè i pazienti arrivano con delle aspettative? Beh, chiaramente se ci sono delle persone che sono molto affezionate, magari è un programma televisivo che ho fatto e arrivano lì e hanno già una predisposizione di un certo tipo nei miei confronti perché un po' mi conoscano già. Quindi si sono già un po' affezionate a me o al mio modo di parlare, ai concetti che cerco di passare. Quindi si parte già con qualcosa che ha a che fare con la vicinanza e quindi è più semplice entrare in sintonia. Questo è l'aspetto che ho notato negli anni. Le persone che arrivano e che già ti conoscono in qualche modo sono meglio disposte ad accettare delle indicazioni e a fare un percorso con te. Ad esempio l'altra settimana sono venuti due ragazzi a fare una terapia di coppia che non mi conoscevano, sono arrivati praticamente per caso e si aspettavano tutt'altro. Cioè loro erano venuti lì, probabilmente si immaginavano una sorta di psicoanalisi, una roba del genere. Quando io ho spiegato un po' quello che faccio abbiamo concordato insieme che non aveva senso proseguire perché non conoscevano nulla, per niente, zero assoluto. Quindi in quel caso lì, ad esempio, il fatto che non mi conoscessero è diventato un elemento che ci ha portato a decidere insieme di non iniziare neanche. E il contrario, persone che ti conoscevano e magari sono rimaste deluse o spiazzate perché... Ah ma io mi aspettavo un'altra cosa perché nello show... No, questo non è capitato, potrebbe succedere, però non è successo. È successo che venissero già ben disposti a iniziare un percorso sapendo un pochino qual era la direzione, insomma. Quindi avere già delle informazioni prima, secondo me, è utile. E anche a me magari rassicura sapere che la persona già si è fatta un minimo un'idea di quello che può succedere. Poi ovviamente ogni terapia, come sai, è qualcosa di unico e ripetibile. Quindi ci sono poi degli elementi che sono calzanti sulla persona e che quindi non sono descrivibili in nessun modo, in nessun sito, in nessun articolo o altro. Però comunque delle linee guida che comunque faccio terapie tendenzialmente brevi, che uso l'ipnosi e l'approccio strategico, più o meno uno secondo me lo deve sapere. Tra un po' ti chiedo un po' di più di come fai la psicoterapia tu. Però declinando un pochino ulteriormente il discorso dell'influenza dello show, adesso quanto saranno? Cinque anni che sei più o meno... Oddio, poi se prendiamo da quando cavalchi palchi... Ah vabbè, però sì, la televisione sì. Televisione, ok. Ti ha influenzato in qualche modo nel modo di fare psicoterapia? Sì, penso di sì. Sì, perché comunque, come dicevo prima, stare davanti alle telecamere in certi contesti è anche abbastanza impegnativi da un punto di vista proprio di produzione, di stress anche, di performance. Perché parlare in un certo modo con tante persone intorno che ti guardano le telecamere, insomma, non è semplice. Soprattutto se non l'hai mai fatto prima. E soprattutto se sei un po' timido di fondo, non è semplice. Farlo mi ha reso più sicuro da un certo punto di vista e anche poi probabilmente anche nel rapporto con i pazienti ha avuto un'influenza. Cioè mi sento molto più sicuro di prima. Avendo fatto l'esercizio, diciamo, della televisione, come se fosse stato una sorta di autoprescrizione che mi son dato, che è poi anche l'esercizio di fare dei video. Probabilmente anche tu che fai molti video, facendo video ti accorgi che certi aspetti della tua comunicatività si modificano, cambiano, migliorano. Quindi inevitabilmente poi lo utilizzi anche in altri contesti come quello della psicoterapia.